Professore Rodolfo Papa, oggi qui nella location del Palazzo dei Duchi di Santo Stefano a Taormina, al centro il dipinto della Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci. Il binomio natura-arte è ben manifesto, è come se Leonardo utilizzasse proprio lo strumento della natura per parlare di arte sacra. E questo è uno dei grandi segreti di Leonardo. Leonardo riesce ad utilizzare la natura per creare delle grandissime metafore, delle allegorie grandiose, per dirci qualcosa di veramente profondo. E quindi se seguiamo la pista che Leonardo apre con i suoi dipinti, riusciamo poi a seguirlo anche in tutti i suoi scritti, perché noi purtroppo abbiamo grande difficoltà oggi a leggere interamente l'opera di Leonardo perché la confondiamo con l'opera di un tecnocrate. Leonardo è esattamente tutto tranne che un tecnocrate. Qual è il significato più profondo del dipinto di Leonardo da Vinci, La Vergine delle Rocce? È un riferimento inevitabile, la caverna, la natività, la maternità e poi infine si arriva all'incarnazione addirittura. Sì, sì, perché noi abbiamo diverse interpretazioni del dipinto da parte degli storici nel corso dell'Ottocento, per i primi del Novecento. Diciamo alcune interessanti, altre un po' meno, altre un po' fuori fuoco, però poi pian piano siamo riusciti a comprendere alcune cose. E allora lì quella grande allegoria della caverna ci riporta immediatamente al grembo, all'utero femminile. E quei due bambini che sono lì sono tutte e due feti. Questa è la grande scoperta del dipinto. È un incontro di due feti, San Giovanni Battista e Gesù Bambino. Dove? Nel momento della visitazione. E questo è quello che dimostrerò stasera, peraltro con dei documenti assolutamente incontrovertibili, perché dimostrano chiaramente che questa interpretazione era chiarissima ai contemporanei di Leonardo. Un riferimento invece al ruolo dell'arte nella nostra società. Una funzione educativa, formativa, ma è anche vero che è un mondo, il nostro, quello di oggi, che sembra quasi incapace di difendere e tutelare la bellezza e l'arte. Sì, perché per tutelare la bellezza bisogna che la bellezza sia al centro di qualunque azione dell'uomo. E perché la bellezza sia al centro di qualunque azione dell'uomo, c'è bisogno che il bene sia al centro dell'uomo contemporaneo. Ora, se tutto è al centro, tranne che il bene, difficilmente la bellezza si manifesta. E quindi di conseguenza l'arte l'abbiamo più o meno calpestata, cioè non riusciamo più a comprendere il senso. L'arte ormai la interpretiamo come la rappresentazione dei nostri stati d'animo, come la rappresentazione dei nostri sentimenti, e non la vediamo più come il luogo di formazione, per esempio, del cittadino. Sono, penso, ormai decine e decine e decine di anni che non vediamo più monumenti pubblici. Nessuno costruisce più monumenti. Sembra, l'idea è perché sono superati, sono sorpassati. In realtà perché non intendiamo più il bene comune come un bene prezioso. E quindi di conseguenza, non capendo questa cosa, non capiamo neanche più il senso della bellezza. La bellezza è diventato qualche cosa di superficiale, uso una parolaccia, esornativo, cioè qualche cosa di consumabile. Allora, cos'è bella? Una bella ragazza, della quale ti innamori per quel tempo che ti serve e poi la getti via. E così un bel ragazzo per quel tempo che ti serve e la getti via. Ma non è invece il luogo delle virtù coltivate, come invece per tutta la tradizione cristiana e per tutta la tradizione europea. cambia completamente l'aspetto, perché allora una donna bella non è bella solo perché è bella, ma è bella perché ha le virtù coltivate. Quindi è qualche cosa di profondamente, straordinariamente, come dire, dirompente nella vita di un uomo. E allora li ritorniamo a Dante, a Petrarca, a Boccaccio, allo stesso Leonardo, che dedica tutta la vita al divinto della Gioconda, per rappresentare che cosa? Le virtù muliebri, le virtù di una donna. In quel quadro non riesce a distaccarsene perché vuole compiere un monumento, un monumento alla femminilità. E ma questo per noi è, non so, una grande attrice che fa la pubblicità di un profumo e si arrampica su per un filo e arriva, non si sa dove, è bellissima donna, ma non mi sta dicendo delle virtù coltivate dell'uomo. Questo è il punto. Come mai la scelta di venire a Taormina a parlare della Vergine delle Rocce? Taormina è una città ricca di storia, ricca di bellezze paesaggistiche, architettoniche, perché no anche artistiche. Ma intanto, come dire, Taormina è in Sicilia e la Sicilia è tutta bella. E quindi non si può poi scegliere un luogo brutto per parlare di una cosa bella e siccome Taormina è, come dire, la perla della Sicilia, a questo punto, per parlare di Leonardo, per parlare della Vergine delle Rocce, abbiamo scelto la donna più bella di Sicilia, quindi insomma, voglio dire, questo va da sé. Dall'altra parte, perché io credo che è necessario portare queste cose ovunque. lo si può fare in un luogo straordinario, in un luogo splendido come questa cornice, architettonica, storica, ambientale, ma lo si può e lo si deve fare anche in un soborgo, in una periferia, anzi in una periferia disagiata forse ce n'è anche più necessità. Ma noi portiamo, per quello che c'è possibile, questo ragionamento, questo tipo di ragionamenti, ovunque, perché siamo convinti che parlare dell'uomo all'uomo oggi sia fondamentale. Infine una frase di Leonardo da Vinci, che Leonardo da Vinci scrive in uno dei suoi libri, la pittura è nipote della natura e parente di Dio. Eh sì, e questa è la cosa che ci dimentichiamo costantemente. Io ho scritto un libro, per esempio, Leonardo Teologo, non amato, non apprezzato dai leonardisti, addirittura avversato dai tecnocrati, cioè da quelli che pensano che Leonardo è semplicemente un tecnico, un ingegnere, mentre in realtà quello è il più proprio di Leonardo, questa è la riflessione di Leonardo. Leonardo dice che l'artista è imparentato con la natura, quindi non può che stare, che seguire la natura. La natura è la sua maestra, ma anche sua madre. La natura è quella cosa che ci permette di capire il mondo, di capire noi stessi. E guardando la natura non possiamo che scoprire che siamo nipoti di Dio, cioè, ma per due vie, primo perché creature e secondo perché l'artista in piccolo, ma in piccolo, 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 fa esattamente quello che fa Dio. Dio crea, l'artista ricrea. E quindi in qualche modo sta lì, perché l'artista non è un creatore, è uno che lavora con cose già create, ma allora a quel punto uno capisce qual è la dinamica spirituale, psicologica del pensiero artistico di Leonardo. La natura è un'artista ricerca.